Papà, posso fare una rilassione di mezzo? Sì, che pensi! Guarda il quanto ti è installato e calcita così! Guarda, guarda come sai! Guarda, guarda come sai! Guarda, guarda come sai! Ok, guarda! Guarda, guarda come sai! no no mi chia no va a dole no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.